buonasera bei uomini e belle donne sono strategico di uti ed eccoci qua con il mio seminterrato dove gioco come vedete lì c'è il tavolo ora un pochino di giorni perché ieri sera c'è un po di gente a casa insomma vi voglio far vedere un attimino un po dove gioco come funziona tutto perché c'è sempre tantissime domande queste cose e quindi ora vi faccio vedere un attimino come funziona allora io di storia gioco su questa tv una tv mi sembra 22 pollici credo e questo qui il 20 no questo mi sembra 17 boh non lo so non lo so non lo gioco e come vedete qualsiasi cosa faccio viene ripetuta lì io come software per solo per mac uso ai tv quella no e tutti mi fanno ma come fa a essere direttamente sul computer no qualsiasi cosa stai facendo e per quello c'è il patch http vr che questo qua che più o meno si collega all xbox qua dietro e come vedete guardate quanti cazzo di cavi ci sono cioè prendetevi conto qua dietro c'è un botto di cavi e comunque insomma avete visto un attimino come funziona ora c'ho un microfono qua perché ormai faccio solo live commentari perché mi siedo qua vedete metto qua questa è la posizione metto il microfono qua proprio attaccato alla bocca e gioco molto facile è proprio facilissimo mi piace un botto e poi voglio fare vedere una cosa davvero figa no proprio per far vedere un attimino la tecnologia è come se come se come diventa la bomba allora se noi andiamo qui dove qua c'è questa applicazione che si chiama netflix che esiste solo in ameria per ora che una cosa mi fa incazzare una bestia perché ogni volta che torno in italia volevo guardare netflix non funziona comunque almeno quando eri in italia due mesi fa non funzionava comunque allora netflix è più o meno un un'applicazione cioè un'applicazione che in poche parole puoi vedere qualsiasi film che vuoi che c'hanno nella loro lista sono pieni di film shows tutte stai azzate e sono davvero una cosa fighissima poi una cosa io potrei fare no io potrei ora aspettate un attimo come vedete qui sono gli ultimi ho visto no vedete il pieno zeppo di film no qualsiasi cosa vuoi insomma io potrei registrarmi tutti e mettermi sull'ipod tramite cose però non lo faccio perché è legale no però allora dove cazzo sono i film che sto guardando io ecco no 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 che bella puttana ecco questi io ora sto guardando questo qua guardate che figata dico qua e mi parte no proprio dal punto da dove avevo lasciato è anche abbastanza veloce no per essere in una qualità perfetta no poi come vedete lì no c'è il film ora guardate se è figata guarda indietro andiamo indietro si va qua andiamo su internet eccoci qua andiamo su netflix ero già sul sito perché sapevo che lo sa per fare sta roba e questo carica guardate un po proprio dallo stesso a questo punto eh bella figata bella figata poi ancora meglio vado qua vado sull'ipen ah comunque vedete il colore di mio ipen io lo chiamo ipen però come vedete verde non quello sporco però non è che ci ho messo un sticker sopra è proprio il vetro verde e guardate un po' guardate un pochino sta roba vado qua netflix quindi posso essere in classe no sta guardando la mattina sta guardando un pezzo del film torno è appunto perfetto dove l'avevo lasciato eh bella figata insomma sta tecnologia davvero non stupido non c'è non una cosa assurda e comunque ragazzi ecco dove gioco perché tantissimi mi avete fatto delle domande dove cazzo giochi strategio facci vedere facci vedere facci vedere quindi ecco vi faccio un pochino a voi poi novità ho comprato i biglietti per l'italia tornerò il 19 giugno fino al 23 luglio quindi un bel mesetto me lo farò in italia spero di vedervi ragazzi e vabbè vi saluto buona cicci